Studio 7 TV e Sport Picciano Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Benvenuti a una nuova puntata, abbiamo ospita una giovanissima cantatrice, Avandra. La domanda più spontanea che ci conosce adesso è, per chi non ti conosce, ma poi ti conosceranno in tanti, come descrivessi Avandra? Allora, Avandra la descriverei in modo un po' diverso da Francesca, perché diciamo siamo due personalità un poco diverse. Avandra è quella più estroversa, quella che fa meno fatica ad esprimersi con le persone e quindi attraverso la musica. Francesca è una ragazza come tante che va all'università, studia, ha i propri problemi come quelli di molti ragazzi. Mentre Avandra, diciamo, la viva un po' più al di sopra di tutto questo, la viva un po' più in modo estraniato, appunto per ricavarne poi ciò di cui parla nelle canzoni, ciò di cui scrivo. A questo punto parliamo del disco di debutto, ma essa, quando nasce questo brano, la cosa è tratto ispirazione? Allora, questo brano in realtà nasce due annetti fa, quindi due anni che era nel cassetto, due anni che attendeva di venire fuori, che mi chiedeva, mi bussava, mi diceva toc toc, posso uscire? Diciamo che non c'è una vera e propria ispirazione personale, ma si tratta più che altro di una sorta di insieme, di tante esperienze che ho vissuto. Queste esperienze avevano una cosa in comune, ossia il giudizio delle persone che non vivevano i miei rapporti. Penso che sia capitato un po' a tutti di avere delle persone che giudicano la propria relazione, che sia amicizia o amore, ogni tipo di relazione, dal di fuori, senza però sapere come vanno le cose all'interno di quel rapporto. E io parlo nella canzone dal punto di vista della regina rossa, perché parliamo della fiabba di Alice nel Paese delle Meraviglie. Io, come succede tante volte, ho voluto dare voce al personaggio secondario per vedere cosa avesse da dire. È come un'esortazione a non fermarsi all'apparenza dei rapporti, ma ad andare più a fondo e quindi a sentire entrambe le campane, diciamo. E poi vediamo appunto una copertina dove effettivamente c'è questa rosa un po' bianca, un po' rossa, dove appunto rappresenta un pochettino anche la rappresentazione nel senso di Alice. Esatto. È una rappresentazione, sia è un riferimento alla fiabba, in cui le rose bianche vengono dipinte di rosso, e sia un po' una rappresentazione del doppio, quindi del doppio nella vita, del doppio nella personalità, e appunto in questo caso dei due punti di vista di Alice e della regina. Nella realizzazione delle tue canzoni, che poi, anche perché già stai preparando, stai studiando altre canzoni, nascono prima le parole, nasce prima la musica, oppure possiamo dire che accidentalmente prendono vita insieme? Io direi proprio che prendono vita insieme. Per quanto mi riguarda, non ho mai scritto prima la melodia o prima il testo. È sempre stata una cosa improvvisa, che magari si può ripresentare dopo mesi e ci possono essere mesi di silenzio, però quando succede è completa. Quindi anche maestà, in realtà, nel giro di forse una mezz'ora c'era lo scheletro iniziale. Invece per i testi un po' più longevi, cioè essere un po' molto descrittiva, come in un romanzo, oppure essere un po' sintetica, come nei testi inglesi, dove la sintesi un pochino rappresenta un po' la canzone. Allora, in realtà è un mix delle due cose. Io preferisco ascoltare musica inglese, quindi diciamo sono cresciuta ascoltando pop inglese soprattutto. Quindi magari faccio appello a quello per quanto riguarda lo stile della canzone, quindi della melodia vera e propria. Preferisco strofe brevi, il bridge, il ritornello, nello stile inglese. Mentre per quanto riguarda il testo, preferisco rifarmi più a un cantautorato italiano. Quindi preferisco essere più descrittiva e magari perdere un po' più di tempo nei particolari affinché l'immagine che ho del brano possa venire fuori per chi l'ascolta. E invece la tua sensazione che hai provato, ma in cui hai stato fatto ascoltare per la prima volta, che probabilmente in studio perché ancora lo devi portare al vivo questo brano, però la faccia che hanno fatto, gli occhi, più che tanto le parole di chi ti ha ascoltato quel brano, la tua sensazione quando poi hai visto che sei riuscito a cogliere quell'attimo e loro hanno capito con lo sguardo e ti hanno dimostrato quella sensazione. Sì, allora io ero molto titubante all'inizio, devo essere sincera, perché non è un testo semplice a mio parere. Quindi anche solo il fatto che è stato colto, che le persone sono venute a dirmi guarda ho capito quello che tu volevi dire, per me è stato tantissimo. Quindi anche se non avevo tutta l'intenzione alla fine di pubblicarlo, mi hanno convinta. Quindi sono stata molto contenta, un po' emozionata anche. Questa canzone avrà un videoclip oppure come primo disco avrà soltanto la copertina nel video? Allora, è previsto un videoclip che tra l'altro ho già girato un po' di tempo fa e ora uscirà a breve, quindi ci sarà un videoclip e spero che possa rendere la visione che ho avuto del pezzo fin dall'inizio. Ci sono artisti in cui ti hanno dato qualcosa o ti si è accorsa che nel tempo ti hanno portato un po' anche a crescere artisticamente? Anche il modo di lavorare, hai capito che forse quello stile ti piace o comunque quel modo di lavorare? Sì, sì, senza dubbio. Allora, sicuramente sono gli artisti che mi hanno accompagnato fin dalle medie, quindi quando ero un po' più piccola. Io mi ispiro molto a Melanie Martinez per i suoni e anche a Lana Del Rey, insomma, come dicevo prima, pop inglese. Per quanto riguarda invece la musica italiana, ascolto veramente di tutto. Sicuramente mi ispiro di più ai testi appunto più lunghi, al canto autorato, magari anche un po' vecchio, tra virgolette. Mi piace molto De Andrè, De Gregori, insomma, grandi pilastri della nostra musica. In realtà tu hai fatto già un singolo, anche se poi ho una ripresentazione. Come mai hai scelto poi il Fantasma dell'Opera in quel caso? Beh, penso proprio perché mi continua a affascinarmi questo tema del doppio, che è presente anche nel Fantasma dell'Opera, fra appunto il Fantasma e lei. E poi soprattutto perché è una canzone quasi lirica, fa parte di un musical, quindi volevo darle una chance nel pop. Appunto poi vedendo la copertina del disco, del singolo, chiaramente c'è questa doppia immagine, anche nel viso che rappresenta un pochino la doppia sensazione. E a questo punto progetti immediati o progetti futuri, quali sono oltre a promuovere chiaramente il singolo? Allora, nell'immediato io ovviamente come sempre continuo a scrivere, a bozzare pezzi. E poi tra quelli magari sceglierò il secondo da far uscire. Io tra l'altro ho collaborato con Carlo Vitrano, che è un mio carissimo amico, oltre che artista sempre di Hoop. Ho fatto già uscire dei featuring con lui quest'anno e probabilmente ce ne saranno anche di futuri. Previci essere abbinata a uno stile, perché in questo caso il maestà è su un genere molto particolare, oppure tenderai a spaziare, cioè non essere classificata in un genere, ma tendere un pochino a fare aria a seconda poi del momento, della canzone. Sì, allora io penso che per quanto mi sforzi non riuscirò a mantenermi in un genere solo, perché anche io ho una personalità molto cangiante, diciamo che cambio molto spesso genere, molto spesso stile, quindi sicuramente ci saranno cose che si allontaneranno abbastanza da maestà. Sicuramente rimarrà il mio modo magari descrittivo di scrivere, questo sicuramente. Come mai avandra? Bella domanda, è una cosa che mi chiedono tutti. Allora, avandra è nato perché io cercavo un nome che fosse bello al suono, quindi ero quasi disinteressata del significato. Ero più incuriosita dal suono che potesse dare un eventuale nome d'arte. Quindi ero su Google Traduttore, scrivevo parole a caso e impostavo lingue a caso. Questa è una cosa assurda, ripensandoci, però effettivamente è così. Alla fine ho scritto grandine, la parola grandine, e ho impostato la lingua del Madagascar, che si chiama Malgascio. E avandra nella lingua del Madagascar vuol dire grandine. E siccome mi piaceva sia l'abbinamento, effettivamente col nome grandine, che è il suono, ho adottato quello. E a questo punto noi ti ringraziamo per essere stata ospite. Grazie a voi assolutamente. E a questo punto ci mancano due cose fondamentali. Dove poterti raggiungere per poter ascoltare il brano, conoscere poi le prossime iniziative, e le saluti finali. Ok, allora, su tutti gli store digitali, tra cui Spotify e YouTube Music, sempre Avandra con Maestà, e su Instagram Avandra, trattino basso, trattino basso, prima e dopo. E quindi niente, vi ringrazio, grazie dell'accoglienza, e alla prossima. Studio 7 TV e Sport Picciano Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata